Il trapolino è uno dei attrezzi igienici migliori per gli addominali perché ci aiuta a dare una compressione. Pilates faceva i cento molleggiando le braccia per creare una compressione interna. Noi la possiamo replicare tranquillamente sul nostro trapolino. Allora esercizio uno, i cento. Compo verso basso, sollevo la testa e provo di farlo per respirazione dentro. Per cinque, aspiro, per cinque, per arrivare fino a cento conti. Pull crunch pump, apro, crunch, apro quattro, chiuso quattro, apro quattro, chiuso quattro, provando di mantenere set and bounce per venticinque volte. Le torsioni sono molto carcide sul trapolino perché abbiamo la possibilità di saltare da una posizione all'altra. Gommetto da una parte, la ginocchia dall'altra. Cambio, quattro, tre, due, uno, cambio. 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 Facciamo scherzo un minuto. Le planche sul trampolino diventano molleggiati. basta spingere verso basso sollevando i fianchi per avere quella contrazione finale. La possiamo fare centrale per un minuto o possiamo fare laterale, sempre dando una piccola spinta di accelerazione sul trampolino. Per i bassi abdominali possiamo fare i pike, portando su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su. Provate con questi abdominali e vedrete i risultati e lo sentirete subito con questi esercizi se provi con il trampolino. Grazie a tutti.